Pavel Nedved, ex calciatore cieco, è stato uno dei migliori centrocampisti della sua generazione. Durante la sua carriera, ha indossato le maglie di Ducla Praga, Sparta Praga, Lazio, e soprattutto Juventus. Nedved ha giocato 327 partite per la Juventus, il maggior numero per un calciatore non italiano nella storia del club. Ha segnato 65 gol con la maglia bianconera. Nedved ha vinto il campionato italiano con la Juventus in due stagioni, nel 2000 e nel 2002. Ha sollevato la Coppa Italia con la Lazio nel 1998, mentre con la Juventus nel 2000. Nedved ha anche vinto la Supercoppa italiana con la Juventus in quattro occasioni, nel 1998, nel 1999, nel 2001, e nel 2003. Nel 2003, Nedved è anche stato premiato con il pallone d'oro, diventando il secondo cieco a ricevere questo riconoscimento dopo Josef Masopast. Pavel Nedved è stato un'icona per la Juventus e ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Grazie alle sue prestazioni eccezionali, è stato soprannominato «Furia cieca» dai tifosi italiani.